La matrimonio canonico 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 non è processo legal tu hai leggi una credda quindi voglio dare un tribunal funzionamento tribunal tanto tribunal civil tribunal militar tribunal eclesiástico interno igreja non è quasi funzionamento leimati sistema funziona tribunale Non è un abalo, compreendere la sala, non è un processo administrativo. Quando c'è un tribunale eclesiástico, c'è un processo di attuare il sistema tribunale. C'è una legge che regula il processo. La legge non è una creda, non è un tribunale eclesiástico. Nella ora, vi sono conseqer 사ggiore degli altri. Renati questi sono giocattati! Ma poi sono stati chiamati! Un processo di attuare il processo di attuare il processo di attuare il tribunale. Il processo di attuare il processo di attuare la tribunale. È importante il matrimonio. per quanto riguarda i nostri caratteri perpetua. L'instituzione è molto importante, ma è la famiglia e la igreja domestica. La famiglia deve proteggere la famiglia, perché la famiglia è molto importante per la famiglia. La famiglia è molto importante, ma è la famiglia che permette la famiglia di solito alla vita. E in questo modo, Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.